Sono nove, sono i quadri sopravvissuti alla tragedia di Rigopiano. Sono finiti in Sardegna dopo che in Abruzzo sono stati venduti all'asta insieme a tutti quei beni che facevano parte dell'albergo travolto dalla Salavine il 18 gennaio del 2017 causando 29 morti. A cinque anni da quella catastrofe, scrive il centro, che aspetta ancora giustizia, fa specie da abruzzesi ritrovare i quadri di Rigopiano dall'altra parte dell'Italia perché qualcuno ha saputo e voluto conservare un valore effettivo e storico non quantificabile. Un qualcuno che abruzzese non è massardo e per la precisione Silvio Piscioneri, un maresciallo dei carabinieri che ora ha uno scopo nobile, mettere i quadri a disposizione gratuitamente per un'esposizione pubblica il cui ricavato andrebbe in beneficenza o riportarli direttamente a Rigopiano. Qual è l'appello che vuole fare lì dalla Sardegna che è vicina all'Abruzzo e a questa tragedia immane che abbiamo scontato? Allora, io li ho acquistati e con un scopo che è preciso fare beneficenza gratuita nei controlli delle persone che sono riusciti. Per rafforzare questo filo rosso che lega la Sardegna all'Abruzzo, i quali sono a disposizione gratuita, tutte le associazioni di enti pubblici o privati, che ne fanno di vita affinché si faccia del bene ai controlli che fossimo. I quali sono sempre a disposizione gratuita e spero che un giorno si faccia il museo di Rigopiano affinché io possa donare gratuitamente i quadri al museo di Rigopiano. Quindi lei vorrebbe un museo a Rigopiano e vorrebbe donare i quadri che ha acquistato? È giusto che i quadri tornino lì, dove è successo l'evento, dove purtroppo mi verso la lì 29 vittime innocenti. Ma tengo a precisare una cosa, io lo sto facendo da privato cittadino, non come militare dell'arma. Certo, da privato cittadino che è legato anche all'Abruzzo e che quindi ha voluto questa iniziativa.